Questa scelta di diventare Società Benefit, come mai avete preso questa decisione? Da dove è partita la decisione? La decisione è figlia di un percorso che abbiamo fatto che è durato diversi anni. Un percorso che ha portato a un cambiamento della nostra azienda, dalla sua cultura di base. Quindi un percorso che ha voluto dire una consapevolezza dell'importanza dell'alimentazione e dello stile di vita nella nostra vita. Questo ha fatto sì che cambiassimo completamente il nostro assortimento, che coinvolgessimo i nostri dipendenti in un percorso culturale proprio in questa direzione. E al termine di questo nostro percorso ci siamo trovati a incontrare una figura giuridica nuova che era perfetta per quella che era la nostra storia, per quello che eravamo diventati. E quindi abbiamo deciso di portare in statuto, di modificarlo, la nostra mission, la nostra vision e un po' tutta la strada che avevamo fatto in questi anni. E dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della sostenibilità sociale, in che direzione va la vostra azienda? La nostra azienda va verso una sostenibilità a 360 gradi, che parte dalla felicità dei nostri dipendenti e ovviamente passa attraverso il rispetto delle catene di approvvigionamento. Quindi noi abbiamo dei contratti molto nuovi con i nostri fornitori, perché sono sempre contratti di lungo periodo, nel quale viene preso in considerazione e viene garantito un loro reddito minimo, indipendentemente dall'andamento dei mercati internazionali. E fra queste cose che abbiamo fatto c'è anche ovviamente il rispetto per il pianeta. Quindi noi entro il 2020 avremo il 100% dei nostri imballaggi completamente reciclabili o compostabili. Diciamo che entro il 2019 saremo già al 98,5%, quindi un impegno che per noi è iniziato anche questo tre anni fa e che sta arrivando a conclusione, perché ha voluto dire, oltre che modificare i imballaggi, anche cambiare i macchinari, adeguarli ai nuovi materiali, dare istruzioni operative in produzione, eccetera. Quindi è stato un lavoro abbastanza complesso, perché la nostra è un'azienda di dimensioni abbastanza grandi, con 400 operatori, quindi stiamo lavorando per cambiare la cultura complessiva a un po' di tutti, ma ovviamente il rispetto dell'ambiente è una delle cose più importanti.